Buonasera a tutti, vi ringraziamo per aver partecipato a questo incontro pubblico, è un incontro che noi abbiamo ritenuto essere importante perché a fronte delle tematiche di interesse collettivo, quali l'imminente chiusura dell'RSA, in effetti oggi l'ultimo ospite è stato portato in un'altra struttura e domenica verrà chiuso al momento in maniera definitiva. Altri argomenti che vorremmo affrontare sono quelli relativi al problema della Guardia Medica, al momento non ci sono ancora notizie ufficiali ma sono state ventilate delle possibilità di chiusura della sede di ponte, quindi ci faceva piacere affrontare questo problema con voi. Purtroppo abbiamo chiesto alla maggioranza di fare un incontro pubblico o almeno di aprire i consigli alla fine proprio per poter dialogare con la popolazione, ma questo non ci è mai stato concesso e quindi abbiamo ritenuto fondamentale convocare un incontro di questo genere. Ovviamente abbiamo invitato anche la maggioranza, ci dispiace che nessuno di loro sia qui presente perché invece sarebbe stato utile e interessante poter anche dialogare con loro così come immagino sarebbe stato utile per tutti voi. Questo incontro nasce anche dalla necessità di rispondere a quello che è stato detto nell'ultimo comunicato stampa, infatti della maggioranza, che è il comunicato della stampa del primo dicembre. In questo comunicato si dice che le amministrazioni devono prendere la responsabilità di quello che è successo ed in particolare si dice che sono le amministrazioni passate che in pratica sono responsabili della chiusura della struttura e questo noi non lo accettiamo assolutamente. Le motivazioni sembrano essere colpa degli altri perché è stato fatto male il contratto di Comodato nel 99, perché non c'è stato un controllo che doveva essere fatto annualmente e allora siamo qua per spiegarvi che magari non è proprio così, che il contratto è stato fatto come doveva essere fatto, che questo controllo in realtà non è mai stato previsto e sicuramente di questo parlerà poi Paolo Coppo. Ritengo che sia corretto che ne parli lui soprattutto perché in fondo è stato amministratore negli ultimi 15 anni, prima come per 10 anni sindaco e i precedenti 5 anni come vice sindaco, però ovviamente siamo tutti d'accordo con quello che verrà detto. Indipendentemente da questa cosa è giusto prendersi delle responsabilità. Allora quello che vogliamo capire è che cosa è successo, cioè quando si è saputo che il CIS38 si sarebbe tirato fuori vorremmo sapere se c'è stato un intervento da parte dell'amministrazione. Così come vorremmo capire, boh, CIS38 ha detto che non avrebbe rinnovato il contratto, ok, si sapeva che l'Asio non avrebbe accettato di portare avanti questi 30 anni di Comodato, allora in questo caso perché non anticiparli, non pensare già delle soluzioni. Purtroppo è arrivata la commissione di vigilanza, adesso che si sa che la struttura è chiusa e bisognerà prendere delle decisioni. A questo punto passo la parola a Paolo così vi spiegherà meglio quello che andiamo a dire. Grazie, buonasera a tutti. Siccome ha detto Sandra, ritenevamo doveroso anche questo incontro perché ben lungi da polemiche, da questioni politiche, da questioni maggioranza e minoranza, no, non vuole essere questo e non vuole essere la sede per fare delle polemiche o per dare delle colpe a qualcuno. Però ci sembra opportuno poter fare una chiarezza. Io cerco di essere abbastanza sintetico nel fare un piccolo scursus. Nel 99 il Comune cede all'Asio, fa una convenzione dove per 30 anni gli dà incomodato la struttura dell'ex ospedale. L'Asio per contro aveva fatto tutta una serie di lavori. Io ero appena entrato in Consiglio, no, ero entrato già da 5 anni in Consiglio. Aveva speso 3 miliardi e mezzo l'Asio a suo tempo e 300 milioni li aveva spesi in CIS per il piano scopo. Quindi l'Asio fa questi lavori e il Comune glielo dà incomodato per 30 anni. Stipolano una convenzione dove regolano i rapporti tra Asio e Comune. A questo punto il Comune è fuori e la palla rimane solo più all'Asio. L'Asio cosa fa? L'Asio non riesce a gestirlo da solo, fa una convenzione con il CIS, regolano i loro rapporti e il CIS inizia a gestire la struttura. Il CIS da solo, col passare dagli anni, da solo non ce la fa, si deve avvalere di una cooperativa. Quindi il CIS fa un bando e subentra in aiuto al personale del CIS anche il personale della cooperativa. A un certo punto ancora il personale del CIS, e questo l'abbiamo preso l'anno scorso nell'assemblea dei sindaci di fine luglio, era già ventilato, ma il CIS nell'assemblea di luglio 2020 dice, io non rinnovero più la convenzione alla scadenza naturale che è dicembre 2021, quindi un anno e mezzo prima lo dice, perché non mi è più conveniente, perché del personale che avevano loro c'era chi aveva dei problemi comunque di salute, problemi di schiera, chi aveva mal di abbraccia, non riuscivano più. Hanno dovuto compensare con del personale in più della cooperativa. E non solo questo, ma questo è stata la, diciamo, quello che ha generato la maggior spesa per il CIS. Il CIS era fuori di circa 200 mila anni. Quindi era una cosa che era, diventava difficile. Io sono andato all'assemblea, c'era l'assemblea, ma mi è diventato difficile sostenere di mantenere aperta una struttura quando era una perdita dimostrata così importante. Così che eravamo a fine luglio, inizio agosto, quando c'era questa assemblea, ci sono state, poi un mese dopo c'erano le elezioni, le elezioni sappiamo come sono andate, noi ci eravamo fatte un'idea, tant'è che nel programma elettorale l'avevamo scritto, un'idea ce l'avevamo. Però, giustamente le elezioni sono state diversamente. Quando c'è stato il passaggio di consegne, tra il sindaco precedente, una cosa normale questa che succede, quindi tra il sindaco precedente e il sindaco entrante, la consuetudine che ci sia un passaggio di consegne per lasciare quello che è il da farsi. In questa sede, fra tutte le altre cose, ho illustrato, ho dato un verbale e ho illustrato questa situazione. In buono sostanzi ho detto quello che ho detto adesso. E ho detto che bisognava attivarsi, perché c'era un anno e mezzo davanti, però comunque bisognava muoversi per vedere che intenzione aveva l'Asio. Da allora non abbiamo mai più sofferto niente. Cioè noi la prima comunicazione che abbiamo avuto, tranne le voci di paese, ma queste non sono voci da poter dare peso. Cioè noi la prima informazione che abbiamo avuto, l'abbiamo avuto più o meno all'8 di ottobre in un consiglio comunale, quando siamo stati informati sul fatto che appunto ci sarebbe stata questa chiusura. E ci hanno informati dicendo che noi abbiamo chiesto, ma avete avuto degli incontri con l'Asio in questo anno? Dice che l'unico incontro che c'è stato è stato ad aprile con l'allora direttore Vercellino, il quale aveva garantito la disponibilità, quindi dall'Asio, a fare un bando. Quindi praticamente lo stesso bando, non c'era più il CIS, faceva un bando, un bando all'Asio. E aveva appunto garantito, da quello che c'è stato detto, che avrebbe, che avrebbe fatto questo bando. Dopo un po' di mesi questo, questo garcellino è andato via ed è subentrato un altro direttore. E anche qui l'unica cosa che ci hanno detto è che con questo direttore, con un certo ingegnere Scarpetto, che io non conosco, dice che hanno condiviso un sopraluogo presso la casa di riposo alla vigilia di Ferragosto, perché avevano visto della gente sul tetto. Mi chiedo cosa c'entra il Comune. La struttura della RSA è in capo all'Asio, il Comune non è che deve andare a fare dei sopraluoghi, ma al di là di questo. Hanno fatto questo sopraluogo alla vigilia di Ferragosto. E da questo sopraluogo è uscito fuori, sono uscite determinate situazioni critiche della struttura. Ma io l'ho letto il verbale. È un verbale che se dovessimo fare in questo edificio, se andiamo a fare l'asilo, se andiamo a fare la scuola, chiudiamo tutto. Ora io mi chiedo, ma se il CIS non avesse avuto la convenzione in scadenza, cosa succedeva? Se andiamo ancora avanti o no? Ora ripeto, noi non vogliamo polibizzare. Abbiamo chiesto di avere la corrispondenza, semplicemente di avere la corrispondenza che c'è stata tra Comune e Aslo. Non c'è stato niente. In un anno e mezzo non c'è stato niente. In un anno, in un anno e mezzo non c'è stato niente. L'unica lettera che c'è è del 15 ottobre, a seguito del Consiglio che abbiamo avuto, dove il Comune scrive giustamente all'Aslo e finalmente dice guarda che tu avevi degli impegni che non hai onorato. Tu dovevi mantenere la vera manutenzione ordinaria e strutturale, non li hai onorati. Perché? L'Aslo risponde, lo stesso giorno risponde e dice il CIS non vuole più tenere la struttura, non vuole più tenere la convenzione. Se volete fare un bando, noi vi aiutiamo a fare il bando. In buona sostanza dice questo. Ma non funziona così. L'Aslo è titolare a tutti gli effetti, lo è ancora adesso per nove anni. Quindi quantomeno in Comune lavori, ma quantomeno in Comune non ci saremmo aspettati che ci fosse stata intavolata una trattativa, come in questo caso. Perché nella Convenzione dice che se l'Aslo viene meno ai servizi che deve fare tutti o in parte, può restituire la struttura al Comune e il Comune può prenderla. Ma non è che tu sei venuto, me l'hai tenuto per vent'anni. Se è vero che non ho fatto le manutenzioni che dovete, adesso che alla dove ne vado, io intendo che non funzioni così. Però noi di questo non abbiamo notizia di niente. Quindi per riassumere questa struttura, se mi assumo la responsabilità di quello che dico, non andava chiuso. Non bisognava farla chiudere. Perché una volta che è chiuso, puoi riaprirla, è ben difficile. Cioè questa struttura necessitava di interventi? Bene. Quindi c'era fare un bando, fai un bando. Ma necessita di interventi? Prendi i degenti, li sposto. Quindi non chiudo, ma sposto i degenti. Ma non ci inventiamo niente. È quello che hanno fatto da altre parti, ma soprattutto che hanno fatto in quella casa vent'anni fa. Cioè quando hanno fatto già degli interventi di ristrutturazione, senz'altro più imponenti di quelli che dovrebbero essere da fare adesso, i degenti li hanno spostati. Hanno fatto i lavori e sono ritornati. Cioè da fare la stessa cosa, la struttura non era. Certo che il personale non poteva lavorare, ma intanto la struttura rimaneva ancora aperta. Adesso io non lo so come sarà. Perché il comune poi ha scritto alla regione dicendo che era disponibile a prendere gli accreditamenti. Gli accreditamenti sono la possibilità di avere i 40 posti dei degenti. Ma ho capito, ma è... Cioè l'Asia non può tirarsi qua tutto questo. Io non voglio credere che il comune in un anno e mezzo non abbia mai fatto niente. Mi rifiuto di crederlo questo. Perché se ho un progetto o un qualcosa in mente e io me lo auguro, ma quantomeno siamo un anno in ritardo. Perché se c'era un'idea di fare qualcosa e ci si attivava mentre la struttura era ancora aperta, cioè fino adesso, in tutto quest'anno, fare un bando, cercare la collaborazione di un privato, ci sono diverse soluzioni che si possono fare. Ma arrivavo adesso, cioè momentalmente chiudevo ma sapevo già cosa fare. Non è che di qui avanti devo partire. Perché adesso io mi chiedo, da domani in avanti, o quando non ci farà più nessuno, ma dopo la struttura cosa sarà? Cominceranno a entrare dentro gente a fare atti vandalici, cosa come normalmente accade nelle strutture giuse? E quindi queste sono risposte che noi non abbiamo avuto. Ripeto ancora, lo ripeterò ancora. Non vogliamo fare polemico e puntare il dito. Non è sicuramente colpa dell'amministrazione se questo chiude. No. Però qualche riflessione sul fatto che per un anno e mezzo non ci sia non ci sia, non ci si sia attivati? Beh, qualche riflessione io penso che sia da fare. E non si può neanche dare la colpa a chi c'è stato prima? Ma neanche meno, perché avrete letto, perché è stato scritto in ogni dove che la colpa, che i sindaci di prima avrebbero dovuto relazionare ogni anno al Consiglio Comunale. Non è assolutamente vero. Io vorrei che ci fosse qualcuno di chi ha scritto questo, essere qui a dirmi dove l'ha visto questo. Non è assolutamente vero. Loro fanno riferimento a una delibera alla delibera del 161 del 99. Non dice questo. Quindi chi si è basato su quella delibera significa non che non sa amministrare, che non sa nemmeno leggere le derivere. Questo è abbastanza grave, perché fare delle affermazioni che, da scaricare, poi ripeto, le colpe non piacciono a nessuno. Io ho delle idee che i problemi vanno risolti. Poi se ci sono delle colpe, ora non si possono vedere, ma in seconda ordine, intanzitutto vanno risolti i problemi. qui io non so. Ora c'è il problema dei dipendenti. Una cosa che se vi volevo chiedere era che se si fa un bando, io mi auguro che venga assolutamente fatto, perché sta già nella normativa, io mi auguro che se ci fa un bando, che il Comune possa metterci mano, che almeno i dipendenti del CIS, quelli sono stati ricollocati, CIS e ASS, e quelli comunque una sistemazione ce l'hanno. Ma i dipendenti di adesso, quantomeno mettere una clausola, che a parità di condizioni, possono avere priorità di assunzione. Ma questo è il minimo che io credo che questo vada fatto. Ma sta nel credo, se si fa un bando. Però io non lo so se questo bando si fa o no. Io avrei voluto che ci fosse qualcuno che dissi delle risposte, ma purtroppo in mente non ci riescono a dare. In questo anno si trattava, l'ASS lo sappiamo benissimo che se la cosa non è conveniente non è nemmeno giusto sprecare denaro pubblico. E sono d'accordo. Però con l'ASS bisognava intavolare una trattativa, una trattativa che è una questione politica perché me lo prendo comune, tu ASS la cosa mi dai. Ma c'è stato un anno in mezzo per poter valutare tutte queste cose. E da quanto ne sono, non c'è stato fatto niente. C'è inagibile punto. Non mi interessa sapere qual è. Voglio sapere cosa vuoi fare. Ma lo ripeto ancora, a quel sopralluogo non bisognava nemmeno arrivare. Ma il sopralluogo era obbligatorio che ci fosse perché erano già passati a luglio del 2019. Sì. Giusto? Sì, però nel 2014 ci avevano già fatto dei lavori. Poi in parte erano già stati fatti nel 2019, hanno detto che comunque c'era ancora qualcosetto da fare. Esatto. Quindi la commissione di vigilanza doveva portare per controllare che fossero stati fatti. Poi l'ASS ha detto in febbraio 2020 che i lavori erano stati fatti e di conseguenza c'è stata una mancanza perché quando la commissione di vigilanza è arrivata e controllata ho notato che il registro antincendi continuava ad essere compilato male, che le porte REI non erano state messe a posto. Quindi in effetti alcune cose che si sapeva che dovevano essere messe a posto non sono state fatte. Però la commissione di vigilanza solo in quell'occasione, cioè ad agosto, il 13 agosto, ha notato che c'erano dei problemi aggiuntivi che non erano mai stati segnalati prima. Ma io di quella struttura non ho mai avuto una comunicazione di qualcosa. Io ho sempre ricevuto e ho sentito pareri favorevoli e complimenti per come era gestita e per come il personale veniva trattato. Io non ho mai avuto una lamentela su quella struttura. Quindi quando siamo arrivati all'assemblea del CIS che conti alla mano ci hanno detto che comunque erano in forte perdita, beh lì puoi soltare le mani, non è che puoi fare l'orario di scadenza. L'orario di scadenza, quindi non è che puoi andare a sostenere di continuare a mantenere l'aperta quando ti dimostrano che hanno una perdita di 200 mila euro. Bisogna attivarsi con altre soluzioni. E questo diciamo che è stata un po' la storia. Non è che da questa riunione purtroppo noi siamo in grado di dire qualcosa, più di tanto. Ci sembrava doveroso comunque fare questa chiarezza almeno perché venisse specificato e fatto un po' un quadro generale di tutta la situazione. Perché ripeto ancora, non basta dire, descrivere il verbale di sopra l'uomo, che lo conosciamo. Ma c'è tutto quello che c'è prima del verbale di sopra l'uomo. Che non è stato, a quanto pare non c'è stato fatto niente. E da questo, questo che è abbastanza grave. Cioè i rapporti tra ASLA e i comuni dovevano essere valutati diversamente. Se l'ASLA non ha un temperato alla manutenzione ordinaria e straordinaria che dovevano fare. Beh, dovrò chiedere conto. Perché? Io non so se questo è stato fatto o no. Io nella corrispondenza che è stata vista in comune, non ho visto niente, io ho visto una lettera sola del comune che scrive all'ASLA il 15 ottobre, se ricordo bene, dove lamenta che non sono stati fatti i lavori che dovevano essere fatti. Io solo quello, non ho visto nient'altro. Ora la situazione qual è? Non so se c'è qualcosa in ballo o no. Qualcuno mi aveva detto che avevano, ma questo è da prendere con beneficio di inventario, che la regione aveva quasi garantito che avrebbero fatto come compensazione una delle 11 città della salute. Io ieri ho visto l'elenco. Non ci sia. Queste erano cose, a mio avviso, motivo di contrattazione. L'ASLA te ne vai? Me lo prendo io comune? Bene. Vallo, tu devo avere le idee di cosa fare? Me lo prendo, ma se tu te ne vai? Mi dovrei compensare in qualche modo. Per esempio, non lo so, fare i lavori che non sono stati fatti prima, perché ne sono tante cose. In una contrattazione lo fai, ma così mi sembra che non sia stato fatto proprio niente. Anche perché? E ora davvero che voi sono fatti dalla stalla. È vero che non c'è una penale messa per iscritto nel contratto di comodato, ma in realtà in tutti i contratti, se uno crea un danno, è obbligato a pagare una penale. E questo esiste per tutti i contratti, compreso quello di comodato. E poi tra i vari articoli scritti nel contratto della Convenzione, quando era stato stipulato, c'è proprio un articolo, che sarebbe l'articolo numero 12, che dice espressamente, per quello che non è espresso nella Convenzione, di fare riferimento alla normativa dei contratti di comodato di beni pubblici. Quindi in realtà, se uno volesse andare avanti e aprire un discorso legale, si può fare riferimento al Codice Civile ed in particolar modo a quell'articolo, perché è segnalato. Quindi in effetti... Cioè è una situazione piuttosto, piuttosto, sarebbe stata difficile comunque, ma adesso, a mio avviso, è ulteriormente difficile. Come ripeto, quella struttura, se c'era da fare un banto, se c'era da fare qualche progetto, andava fatta in quest'anno passato, senza arrivare alla chiusura. Quindi dei genti si spostavano, come hanno fatto da altre parti. Altre strutture qui vicino, che sono state ristrutturate, hanno fatto la stessa cosa. Hanno chiuso per due, tre mesi, un anno, e poi hanno fatto i lavori. La nostra, questa qui, al tempo è stata chiusa, mi pare, non so, un anno, un anno e mezzo, quando è stata chiusa, e poi l'anno è stata riaperta. E la cosa potrebbe essere fatta tale cosa. Se qualcuno ha qualche domanda da fare... Se vuole... Prego. La prima situazione che era evidentemente forbiante, era che i giornali usciti, intorno a fine settembre e fine ottobre, passava una notizia per la quale la struttura probabilmente, o quasi certamente, chiuderà, ma non ci sarà nessun danno per i lavoratori. Allora, chiaramente io rappresento i lavoratori, interna cooperativa, collega, qui non rappresento perché abita a Crescentino, quindi un po' lontano da qui, rappresentava, rappresenta, i lavoratrici del CIS, e io mi sono ritenuto in contatto con lei per sapere cosa stava succedendo, perché noi le prime abisaglie che c'era qualcosa che andava male, ma seriamente male, le abbiamo punti alla fine del 2019. Il CIS voleva già spilarsi a quell'epoca, quindi poi forse nel 2020, come dice Coppola, o l'ha formalizzato, ma la cosa era un precedente, era sicuramente un precedente. Sì, perché il debito che è incominciato la perdita, che è incominciata una, la vota non solo nel 2020, è andata man mano a crescente, quindi erano, ma non c'è tanto, erano due o tre anni che erano perdite. E' detto il Covid o la verità? Sicuramente il Covid, io seguo tutti le ragazziate, cominciano anche il Covid, il Panto da Chivasse abbiamo un Quino qui, l'area, Confieguolo da Rosta, Lanzo, i valli di Dantes, quindi ho 60 in passastrutture, quindi sto vedendo veramente tante situazioni poco edificanti. Non dimentichiamoci che tra il 2020, e con questo, per il 2021, ho qui in canadese, partendo da Iurea, da Andrila, che è già chiuso il 3, una Piverone, una Forno canavese, che è il mio paese di origine, e poi adesso c'è questa. Quindi stavo dicendo, quello che non poteva passare, il sindacato non è qui per fare, ovviamente, queste ripolitiche di nessun genere, di maggioranza, di minoranza, ma chiaramente, quello che non poteva passare, questa informazione, data in passato, quindi alla Repubblica, poi chiuderà, ma non succederà di quello che ho fatto, perché in effetti non è così. E non è ancora certo, almeno che sia così, per tutti i dipendenti del Cestretotto, che è vero, che hanno dipendito a parte del LAS da essere ricollocati, ma non dimentichiamoci che sono persone, di una certa età, con le schiere, qualcuno citava prima, non proprio, come dire, praticamente a norma, penso persone di una certa età, che hanno un po' dei dipisici, e che in una situazione come questa, dove sono stati fatti concorsi pubblici, in cui il bando, l'ultimo si è chiuso, a ottobre del 2018, hanno assunto circa mille fischia OS, nelle AS della provincia di Torino, tutti i bando, legati all'emergenza, che hanno assunto a tempo determinato, degli OS, per l'emergenza sanitaria in corso, se c'è una cosa che si può dire, in questo momento, probabilmente c'è una saturazione, anche con gli OS, e fin quando ci sarà l'emergenza sanitaria, questa cosa non verrà, come dire, alla luce, ma prima o poi, verrà alla luce, quindi tutti questi contratti atipici, che sono stati, come dire, instaurati, per cercare di sopperire, l'emergenza sanitaria, sono persone destinate, probabilmente, a stare a casa, per contatto a termine, non devo dire a Dio che cos'è, lo sappiamo tutti, e perché nel primo avviso del pretempo, non solo chiudono le strutture, ma, se guardiamo la generalità del territorio, vediamo tutta una serie di strutture, a partire da Lucana, e scendendo, andando verso Bafia, tanto per non, dire un nome diverso da quello che era la cooperativa di Cerapia Ponte, possiamo andare anche oltre, San Giorgio, per esempio, ne ha una restata chiuda, poi in fallimento, qualcuno arriva dal fallimento, San Giorgio se ne sono due strutture, quindi c'è una situazione molto penosa, e c'è un risultato di personale diffuso, che non emerge, da un servizio emotivo, perché noi qui in Piemonte, siamo italiani, ma siamo figli di un dio minore, va detto a voce alta, perché, al di là delle normative regionali, sull'assistenza, che sono diverse, che non la useranno d'altra, noi qui abbiamo una normativa, che si basa sul minutaggio, no? E praticamente, sul grado di intensità, dell'anziano, e sul minutaggio corrispondente. Nel momento in cui, non c'è la rivalutazione, dei grado di intensità, da parte dell'intervunità, di valutazione geriatrica, e nel momento in cui, c'è una penuria, anche data dal Covid, ma non solo dal Covid, perché, come dice qualcuno, molto così banalmente, dopo un'altra strada, nelle case di riposo, si muore, ma non si nasce, cioè, le morgine a case di riposo, purtroppo, sono naturali, al di là del Covid. Quindi c'è stato, un decremento significativo, che è toccato addirittura, appunto, del 35% in alcune strutture, e quindi, noi abbiamo, tutta una serie di colleghe, che vengono, semplicemente, tenute lì, con meno ore, che riducono l'orario di lavoro, a prescindere dal contratto che hanno, con il risultato, che non c'è necessità di licenziare, perché, tanto mancherebbe licenziare, rischiare che il sindacato, gli venga a rompere le scantole, su licenziamento, quando gli basta, semplicemente dire, tu faccili 38 ore, danno male, ti vai in 30, perché non ci sono più, gli anziani, per garantirtene 38. E queste cose, non sono verificabili, tra l'altro, perché, perché noi, non abbiamo nessun potere, possiamo chiedere di queste cose, spesso volentieri, ci vengono rifiutate, o magari ci vengono date, in tempi, come dire, troppo lunghi, perché, chi ha questa situazione, la sua mobilità, è altrettanto chiaro, che, se io, che non ha, la cosa oggi, la danno, tra tre mesi, quella valutazione, potrebbe non essere più, reale, ok? Quindi, la nostra, iniziativa, di andare sui giornali, e dare voce, a questi signori, che sono qui, purtroppo ce ne sono poche, era proprio per dire, quello che stavate dicendo voi, qui ci sono delle persone, che resteranno, senza lavoro, e alla luce, degli incontri, che abbiamo fatto, nell'ultima, sentenza, del 2007, quindi, qualche giorno fa, noi abbiamo provato, con la cooperativa, a cercare, delle ricollocazioni, ma proprio, per il frutto, di quello che stavo dicendo, la situazione generale, che c'è, a cuore niente, Roberto Primo, che forse, non ha delmeno colpito, in generale, ma soprattutto, a Farnia, questa cooperativa, qui, in loco, non ha ricollocazioni, riesce, su 15 persone, a ricollogarne tre, e forse, siamo testati, costurati, perché, data la situazione, non è la scontata, ne abbiamo altre tre, che si sono dimesse, che hanno già, con le lettere, di licentivamente, in mano, come tutte le colleghe, più presenti, si sono dimesse, per poter accettare, i contratti a termine, molto brevi, perché saranno, due, tre, a quattro mesi, che sono, a cui, da un'altra parte, senza prospettivo, perché, chiaramente, i contratti, sono legati, magari, a delle assenze, a delle sostituzioni, ma non, certamente, al contrario, di quello che ho detto, io, fino adesso, cioè, al fatto, che ci sia, un'imiettiva, necessità lavorativa, e quindi, noi, a gennaio, avremo, cittadini, in volte, non solo, almeno, con le persone, che vanno a finire, in disoccupazione, con quello che significa, questa cosa, quindi, lo scopo del sindacato, non è tanto entrare, in una polemica, pur essendo, chiaramente, come dire, soggetto civico, per il quale, credo sia normale, spica, però poi, la responsabilità, quando non se la riprende, in questo paese, a noi, non interessa, la maggioranza, la miglioranza, ASDA, sappiamo, sicuramente, qualcosa, non ha funzionato, come state, divenziando voi, ma è qualcosa, che ha portato, una chiusura, che oggi, dà delle conseguenze, a queste famiglie, e a queste persone, ma chiediamo, semplicemente, che l'istituzione, a partire dal comune, mi spiace, come dicevate voi, che non ci sia la maggioranza, ma è chiaro, che lo capisco, che questa assenza, molto rilevante, non possa, in qualche modo, come dire, essere sensibilizzata, che questo era il nostro scopo, non solo, a dire, che qui, non è vero, che non succederà nulla, e di fatto, oggi, possiamo dire, sta succedendo qualcosa, di grave, ma si prodigliano, nel limite, delle loro competenze, perché capisco bene, che non vogliono, che abbiano grandi competenze, da questo punto di vista, per cercare, di non a mano, come stiamo cercando, anche noi, a livello sindacale, in parte, da parte anche il CIS, a cercare, delle ricollocazioni, dei sepulti, eppurale, di queste persone, perché, purtroppo, il meccanismo, della disoccupazione, che è rimasto, l'unico, monetizzatore sociale, che chiamano, televisione, presente in questo paese, è una questione, lascia il tempo, che troppo, prima di tutto, chiamano diverse persone, che hanno a tempo, parziale, e quindi, il calcolo, che questa invenità, si fa su quello, seconda questione, dopo il terzo mese, all'imento di una franquise, che è stata data, da maggio, fino a dicembre, dopo il terzo mese, scende, il 3% ogni mese, quindi, ipotesi, abbiamo un quartale, che forse, prenderà 750 euro al mese, per i primi tre mesi, e poi, man mano, che andiamo avanti, questa rossa, si rinunce, di non diventare qualcosa, che non garantisce, sicuramente, la sopravvivenza, di qualsiasi persona, allora, il fronte è un meccanismo del genere, che noi da tempo, che abbiamo, neanche fatta una riforma, ne abbiamo avanti, da solo i sociali, perché qui, abbiamo una volta, tutto, una serie di strumenti, che nel corso del tempo, Fornero, Berlusconi, tutto quello che è stato, hanno cancellato, hanno cancellato anche, ecco, per dire la proprietà, quindi non salvare nessuno, da questo punto di vista, però, è chiaro, noi dobbiamo portare, agli occhi, e all'attenzione, dell'opinione pubblica, questo progetto, perché tutti, secondo me, ognuno, per il suo ruolo, devono cercare, in qualche modo, di essere sensibilizzati, per cercare di dare la mano, a queste donne, e a queste famiglie, con una serie di problemi aggiuntivi, abbiamo qui una collega, che io ricordo, che l'autorato locale, si è preferita, per lo canale, appunto, per le problemi di mobilità, adesso questa collega, adesso è anche avuto, di cui presente, una ricollocazione, se non ha un metro, e non c'è un metro pubblico, qui, entriamo in argomenti, insomma, quella più grande di noi, no? la mobilità in canavese, l'elettrificazione, della perrocchia, di più e più, e anche di mezza, è chiaro che, anche di avessero dato, una ricollocazione, di avessero dato, vai a lavorare a San Maurizio, che era un posto di vicino, non stava una tornera a Pavia, che ha questa cooperativa, non si sarebbe potuto andare, quindi ci sono i problemi, anche i problemi, legati a condizionare, le singole persone, le singole mani, allora, lo scopo, che è una nostra presentazione, mi spiace, a tutti gli abitati, i consigliatari, del Consiglio Comunale, pur non essendo un Consiglio Comunale aperto, non si sia dato la parola a queste persone, ma si poteva, si poteva aprire, si poteva aprire, si sarebbe ordinabile, e ci sarei stato ben felice di intervenire il mio, ad un Consiglio Comunale aperto, per dire le cose che sto dicendo adesso, cioè qui, da parte del sindacato, io rappresento ovviamente il mio collega che non è presente, Dario Vattorello della CISDA, è chiaro che, non siamo qui a fare polemiche, o a parenteggiare da nessuno, stiamo dicendoci a un problema, ormai, un conclamato oggettivo, cerchiamo di mettere in campo tutti insieme, mettendoci dentro a fridi, ovviamente, le risorse, le possibilità, le capacità che abbiamo, tagliare una mano a queste persone che oggi, da oggi in poi, da domani in poi, a dire la verità, ci troveranno in questa condizione. Ma, come ho detto, c'è l'unica cosa che faremo, ma io penso che comunque, non ci sia bisogno di suggerimento, ma semmai, il Comune, dovrebbe partecipare ad un bando, non so come, perché, ripeto, bisogna, prima bisogna regolare i rapporti con l'ASDA, prima che il Comune, o il Comune, decida di sobbarcarsi tutto questo, ma sarebbe un onere, non indifferente, comunque, che sia l'ASDA, che sia Comune ASDA, o solo il Comune, sicuramente una cosa che noi faremo presente, la ripeto, come dice arrivano già, che quantomeno, ci sia una clausa in questo bando, che dia priorità, a parità di condizioni, ovviamente, nell'assunzione del personale, che già conosce quella struttura, ma mi sembra una cosa normale, io, ovviamente, questo non lo spiego, no, perché, troppo, se me fa, oggi, a gestire la struttura di forno, che porta a parlare, pure per un nome, e, voglio dire, quella struttura, io ci abitavo a 50 metri, l'ho vista da quasi un bambino, era un punto di riferimento, era anche, come dire, un'azienda per il Paese, per la comunità di forno, quello che è uscito sui giornali, e forse l'opinione pubblica, non lo sa, perché abbiamo cercato di farlo sapere, ma chiaro che il caso era il Covid, no, la struttura ha chiuso, ma erano tutti positivi, la verità è che dicevano lo stesso, perché lì era stata fatta un'operazione, di quello, troppo sciaglurato, e che vediamo, spesso, metriere, di appalto, a una cooperativa, che non era un appalto, ma era in realtà, un articolo 47, tradotto in italiano, significa, un affitto, o un'accessione, di un'accessione, quando io do tutti, se tutti, adesso è una più, una parte, una cosa di diverso, e quell'operazione, che noi come CGL abbiamo criticato, anche un po', perché è in contraddizione, con i nostri, diciamo, partner, CIS, BIL, è un'operazione a perdere, perché, chiaramente, se io do in mano, una cooperativa, una struttura, che ha dei problemi, appunto, come si diceva, per il quale, l'ASIO, mi blocca, il titolo autorizzativo, in ingresso, io, non posso fare, tra l'alanziato, mentre muoiono, e quella cooperativa, dovrebbe prendere, dei soldi, per garantirmi i servizi, allo stesso tempo, veniva usata, nella loro logica, logica, che secondo me, è molto, come dire, il, ragionevole, come banco, ma per anticiparmi, i soldi, dei lavori, ma a un certo punto, se io non riesco a prendere, più o meno, i soldi, nella mia fattura, figuriamoci, se anticipo, un milione di euro, per fare i lavori, e mettere la norma, quella struttura, in realtà, al di là del Covid, avrebbe chiuso lo stesso, adesso, è passato un anno, e che cosa succede, tanto per dire, cosa succede, su territori, su questo settore, adesso, ci sono, 650 mila euro, di debito, conclamato, ma, chiaramente, la Puglia, non ha i soldi, da dare alla cooperativa, quindi, quella struttura, diventerà, probabilmente, in una causa, proprietà della cooperativa, la quale, però, su questo territorio, non ha nessun interesse, di investire, quindi, quella struttura, avverrà, difficilmente, avverrà, probabilmente, resterà chiusa, oppure, verrà venduta, qualcun altro, per fare qualche altra cosa, questo, come lo sappiamo, però, è per dire, che una volta, che sono in più, è molto difficile, è lì, è lì, è lì, che non bisognava, perché, il nostro viso, non andava più, come hanno fatto, vent'anni fa, se la stessa struttura, sono parlati, vent'anni, è vero, ma la regola, è vero, e poi, forse, conveniva, spostare, tutti gli ospiti, in una stessa struttura, di modo da garantire, magari, anche loro, di poter andare a lavorare lì, nel senso, che ho letto, che, la cooperativa Nuova Assistenza, ha detto, che non ha potuto, assumere più personale, perché gli ospiti, erano stati spallati, in varie strutture, non la fate, in pratica, quindi, forse, anche lì, sarebbe potuto, fare pressione, sapete, è una riflessione, che però, questa è molto più generale, è fare di poterlo, poter promuovere lì, in creativa, anche lì, lo diciamo, territoriale, oppure provviciare, sarebbe le idee ospiti, ma, questa parte mia, non ci permette, in questo momento, perché, se si vuole parlare, non dire, non si può dire, dire gente, e in questo momento, dire gente, è ancora complicato, però, bisogna fare una riflessione, anche sul futuro, di questo settore, perché, perché, noi abbiamo una situazione, che voi, in qualche modo, avete toccato direttamente, le convenzioni, sono fatte dalla regione, la regione, controlla l'ASDA, e la commissione di bilancio, è dell'ASDA, l'Ubg, è sempre dell'ASDA, e quindi, a me sembra molto, un po' critto di interesse, perché, non c'è interesse, da parte della regione, che va fuori, più soli, non resistenza, e chiaramente, se il controllo è dato, qualcuno, che comunque, in qualche modo, è controllato, dalla regione, a me pare molto, scusate, il termine, un po', come dire, da un uomo della strada, lo sapete, che si guarda l'accordo, no? Allora, se non ci sarà, una riforma, a me, lo sarà spesso, a sproposito, ma non me ne viene un'altra, a quest'ora della sera, sono in giro, da stamattina, è ovvio, che questo settore, avrà delle grandissime difficoltà, nel futuro, anche a rocce del fatto, che non dobbiamo dimenticarci, ma questa è, come dire, politica di questi giorni, nazionale, che abbiamo, delle pressioni sempre più basse, e dei figli, che stanno precari fino a 40 anni, che non possono più fare la web, far famigliare, agli aziani, come la mia generazione, ha potuto fare i propri genitori, quindi una riflessione, un convegno, qualcosa che, in qualche modo, avendo, diciamo, un problema, sulla non autosufficienza, che è, con cui a parte, non da oggi, da anni, credo che, vado a pena di fare, e mi auguro, che il futuro, se mi piace di fare. Ci sono da dire una cosa, ancora tu, hai fatto riferimento, l'unico ammortizzatore sociale, ancora la disoccupazione, ma un conto, è andare in disoccupazione, senza prospettiva, un conto, è andare in disoccupazione, con prospettiva, che dico, fra un anno, è diversa la cosa, è diversa. Oggi questo è molto complicato, almeno nel tre periodo, a poter pensare, di collocarsi, stati in mente, ci sono delle clienti che cercano, noi abbiamo anche detto, in assemblea, provate a andare qui, ma a prenderli, ma sappiamo benissimo, che, per esempio, Strabbino, attiva divestimie, in questo momento, ci sono, nelle ricerche di os, ma sono ricerche temporale, dovute ad assenzi, dovute ad essere, dei contingenti, che non c'è da me, di essere questioni stati. Vabbè, c'è qualche altro, un po' di tempo. Posso dire una cosa? Sì? È brutto anche, noi i boss, siamo passati, diciamo, un po' colpevoli, di questa chiusura, per l'igiene sanitaria, ma non da parte scuola, io non l'ho sentito. Dall'analisi, sì, sì, sul video, dell'ultimo visitato, il sindaco ha detto che la struttura è stata chiusa per la struttura e per l'igiene sanitario. No, sul barbino, ho visto che hanno fatto, cioè hanno rilevato che la struttura era posta sotto il barbino. Io rapporti come l'asno non l'ho mai avuti, perché non erano tenuti a dirmi niente in questi 15 anni. Però io le uniche cose che ho sentito su quella struttura in generale ho solo sempre sentito parlare a pelle. E sul del barbino c'era scritto anche così che tutto si andava bene per gli os e quella sera invece il cinema ha detto che la struttura è stata fuga per la struttura e per l'igiene nostro sanitario. Io ho. È un brutto sembrire. Ti posso dire una cosa poi con qualcuno di voi ci conosciamo. Io sono venuto tante volte da voi e quello non è vero perché non è che ce lo diciamo qua perché ce lo diciamo qua sono venuto tante volte e anche Sandra noi siamo passati un paio di volte da voi e non c'è mai stato questo problema. Non abbiamo mai avuto discussioni nel caricare o non caricare anzi avete sempre dato una mano e come dice il vostro rappresentante sindacale adesso è un momento è vero che le ossa adesso ce n'è tante perché c'è il covid ma finito il covid e il lavoro ma finito però queste cose qua non è non è non è poi sotto il covid avete anche avuto un periodo che da una parte c'erano delle persone positive che erano state dimesse non potevano andare a casa e una parte della vostra struttura c'erano delle persone positive che abbiamo fatto il massimo fino all'ultimo fino all'ultimo sempre e ancora adesso quando venivamo le volte poche volte che venivamo la procedura era sempre si entrava nella parte si usciva da in alto questa cosa che è stata comunque un po' sentire forse ha detto male il verbale perché nel verbale faccio da riferimento al problema delle infiltrazioni del fatto che non c'era la reazione si si ma lo sappiamo il verbale però il signore ha detto che non è giusto cioè non deve passare quello come messaggio tanto più che davvero le cose che sono segnalate al di là di questa cosa recente del problema del tetto delle infiltrazioni che provengono dal terreno le altre cose non le potevate gestire voi il registro di incendi non è di vostra pertinenza così come neanche fare i lavori mettere a posto le porteree quindi sono tutte cose che dovevano fanno parte dell'armotenzione ordinaria tra l'altro non è anche straordinaria il tetto è un altro discorso ma gli interni dovevano essere messi a posto probabilmente dall'arco e abbiamo anche quando l'altro la convenzione se qualcuno poi fosse interessato a leggerne i vari articoli c'è proprio detto di chi sono di pertinenza quindi sono a disposizione di tutti la convenzione è stata fatta bene a suo tempo chi l'ha fatta la convenzione vent'anni fa l'ha fatta bene era specificata molto bene cioè diciamo che dalla parte del comune ha tutelato l'entra tutelato il comune con quella convenzione l'entra di l'articolo 7 tra l'altro dice che l'ASL è costituita custode dell'immobile oggetto ne cura diligentemente la conservazione e desonare espressamente il concedente da ogni responsabilità per dare diritti indiretti quindi c'è già scritto lì e poi ci sono anche nell'articolo 4 dice l'ASL sta provvedendo e provvederà a sua cura e spesa all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'ordinaria quindi quello era descritto allora invece l'articolo che dicevo proprio l'articolo 12 per tutto quanto non previsto espressamente nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle leggi in tema di comodato di beni pubblici e questo articolo ci si può rifare per pensare ad un'eventuale penale per capire se si può richiedere qualcosa all'ASL quindi all'ASL non si può tirare fuori da questa storia è prima della scadenza è vero che bisogna bisogna capire condividere il danno per lo meno diciamo che con l'ASL adesso era forse l'azienda più grande di Ponte perché lì eravano a tempo pieno e partai ovviamente chi veniva c'era un 35 40 persone se non ripeto la partai ma quindi è un'azienda non indifferente per la più grande che c'è adesso ma al di là di questo è la tutela dei lavoratori che è già così difficile e precaria quantomeno va salvaguardata per quanto possibile noi cercheremo di fare presente la maggioranza ai coppini che lo diremo ma io penso che ci arrivino che ci arrivino di loro con questo però è da capire da capire se c'è qualcosa in atto o no questo sarebbe bene perché come ho detto prima non basta che facciamo dei comunicati in consiglio che affiggiamo dei manifesti per descrivere il verbale di sopra il luogo che è quello lo chiudiamo e dice è inagibile punto il resto è secondario cioè io ho altre cose non ne ho sentite non ne ho sentite cioè è inammissibile che uno faccia intanto che partiamo da ottobre al primo incontro se è vero che è stato fatto ad aprile sono passati otto mesi questo è inaccettabile ma poi faccio un incontro dove ho un direttore che mi dà certe garanzie e non scrivo due righe se c'era un verbale che mi diceva questo quando c'era il passaggio di consegne tra un direttore e l'altro questo rimaneva non c'è traccia di niente ma cioè quando mi sembra una cosa normale che quando a questi livelli ma fare un verbale della seduta si fa un asunto del condominio e non va vuoi non farlo vuoi non farlo in cose così importanti sentiremo se avremo notizie in più magari ci aggiorneremo se abbiamo qualche chiederemo dei consigli a Barco se c'è ancora qualche altra domanda magari in genere devi dire qualcosa sulla guante medica la guardia medica è stato letto un verbale in consiglio comunale allora la guardia medica è una cosa il verbale che è stato letto in consiglio comunale è un'altra cosa allora il verbale che è stato letto in consiglio comunale è l'ispezione che fa annualmente l'ASL alla sede di Croce Rossa per la certificazione delle ambulanze sulla certificazione dell'ambulanza per il 118 per il trasporto infermi in più l'ASL fa un controllo anche della sede per vedere i locali dove risiede il personale volontario se sono idoni oppure no su quel verbale era citata la dottoressa Bonatto perché la dottoressa Bonatto è il direttore sanitario fosse stato un altro direttore un altro responsabile sanitario mettevano un altro nome la guardia medica è una cosa staccata è una convenzione che c'è e lo stesso giorno che è venuta il controllo in Croce Rossa la sera un consigliere regionale scendendo da Locana che aveva avuto un incontro con l'amministrazione comunale di Locana e i medici della guardia medica di Locana dove era presente anche la dottoressa Bonatto hanno fatto visita alla Croce Rossa di Ponte è venuto l'ingegner Scaffetta e il responsabile della guardia medica che è il dottor Bono loro hanno parlato che c'è un problema che hanno una carenza di medici sul territorio hanno pochi medici e non sanno come gestire questa situazione al momento cercheranno di non chiudere la sede di Ponte e cercheranno anche di tenere quella di Locana l'altra settimana questa settimana la dottoressa Bonatto che la Ponte ha coperto fino a Forno e vedete che è un problema grosso del territorio perché da Ponte è andato a Forno mettiamo che da Forno la chiamavano dove andare a Frassinetto stanno ore e ore il territorio scoperto loro hanno proprio detto che il problema maggiore è la mancanza di medici e solo quello voglio chiarire che il verbale che c'era non c'entra niente come la guardia medica e un verbale è stato fatto per la certificazione della Croce Rossa solo quello solo una chiarezza quindi in pratica anche se la sede è adeguata è tutto però il problema è per male nel senso speriamo che le sedi rimangano aperte come guardia medica non come Croce Rossa anche in questo caso è importante che le amministrazioni locali si facciano sentire perché si ventila appunto di compattare alcune sedi allora bisogna cercare di tenere aperte le sedi in zone disagiate come può essere appunto un paese di montagna come possono essere ponte locale perché siamo già distanti dagli ospedali in questo momento l'ospedale è aperto e è a Ivrea quindi sarebbe un ulteriore disagio per la popolazione chiudere la sedia di guardia medica di ponte non vogliono chiuderla in maniera definitiva apparentemente però è sempre il seguito problema che una volta che viene chiusa una cosa una sedia una struttura un servizio non è detto che poi così facilmente venga riaperto quindi come abbiamo visto anche per il proprio soccorso di Cornier conviene farsi sentire prima che si prenda la decisione della chiusura anche l'idea sarebbe di compattare le sedi la peggiore dell'ipotesi per quel che riguarda noi è che decidono di compattare di metterci tutti a Castellamonte se così fosse vorrebbe dire che i medici partirebbero da Castellamonte poi a seconda della chiamata potrebbero coprire un territorio molto vasto quindi da Castellamonte andare a Forno andare a Frassinetto o quant'altro allora secondo noi sarebbe abbastanza caotica la gestione perché il medico passerebbe la maggior parte del tempo in macchina e già proprio solo per trasferirsi da una domiciliare all'altra andrebbe poco tempo per fare delle visite in sede e anche solo per dare delle consulenze perché è vero che spesso il medico di guardia fa una consulenza telefonica che gli dà un consiglio però da quando è subentrato il numero unico quindi un mese e mezzo oramai come? il numero unico è un problema che è capitato con il numero unico prima di riuscire a parlare con la regola di cose che è un consiglio da 22 minuti è appunto perché la regola dice che il medico fino a quando non ritorna dalla visita domiciliare o comunque non ha chiuso la scheda non può prendere una chiamata e quindi se ci mette già tantissimo tempo a raggiungere fisicamente la sede della visita rischia di di inviare perché abbiamo raggiunto noi la sede del e anche quel telefono ti dice anche sei in posizione hai 3, 4, 5 solo che il numero unico è obbligatorio nel senso che c'è una legge nazionale e da lì no però da lì non possiamo scappare perché è una legge nel 2007 mi pare è stata recepita da due anni quindi lì siamo obbligati ad accettarla però perlomeno cercare di non chiudere le sedie e quindi è vero che si dice che la volontà è quella di tenerla aperta ma poi in realtà noi come medici sono arrivate tantissime proposte e se continua a arrivare da vera anche se va via Castellamonte e io faccio da conto vado direttamente esatto e poi soprattutto noi siamo svantaggiati perché non abbiamo l'ospedale e il servizio pediatrico non c'è praticamente prima Castellamonte c'era adesso l'hanno tolto a Ivrea spesso e volentieri non c'è il pediatra o comunque ti mandano a Ciriè quindi in effetti diventa complicata a me poi ovvio che in questo caso è il mio lavoro ma in effetti sarebbe un grosso danno per la popolazione oltretutto una sede bella quella di Ponte dove c'è un'ottima collaborazione con i volontari ma è proprio strutturata molto bene sarebbe assurdo che venisse chiusa quindi spediamo anche in questo senso che gli amministratori ma non solo di Ponte in questo caso parliamo di Unione Montana che si facciano sentire e se ci fossero dei problemi si potrebbe arrivare a pensare a una raccolta firma comunque la popolazione deve essere a corrente di questo rischio e spesso capita che le sedi siano già vicariate quindi anche in questo caso toccherà all'amministrazione fare sentire il peso per capire quale deve essere la sede che vi cae e quale è quella che venga lecariata speriamo insomma tutto ovviamente è causato dall'apparenza di medici questa è una colpa di nessuno perché ci sono medici che sono andati in pensione medici che purtroppo non si sono vaccinati e quindi sono stati un attimo sospesi dall'attività lavorativa molte dimissioni perché era un lavoro scomodo perché comunque può essere faticoso molti non vogliono uscire di notte quindi iniziano a fare guardie mediche e poi dopo un po' di tempo si stancano si rendono conto che non ce la fanno più però adesso c'è una carenza importante e cerchiamo di mantenere la sede dove ci sono i medici niente se avete dei dubbi anche in questo senso l'importante è che si capisse che sono due discorsi diversi una è la Croce Rossa e una è la Guardia Medica la Croce Rossa rimane non ci sono problemi per quel che riguarda la Guardia Medica può darsi che le sedi vengano compattate ma speriamo di no c'è ancora un altro argomento ancora due ma uno veloce ed un altro che volevamo affrontare cerchiamo di non portare via troppo tempo la scuola non avrete sentito parlare sono anni che si parla di questa scuola diciamo che ormai è una vicenda annosa con informazioni discostanti i motivi sono stati di tutt'altra natura che vanno oltre quello che è l'interesse puro della scuola e degli alloghi quando si era partiti cerco di farvi una cosa veloce perché ripeto delle cose che probabilmente sono già sapute però ci sono due aspetti che è bene sapere questa scuola è stata fatta nuova con un intento di fare un polo scolastico che raggruppasse da 0 a 14 anni tutti i ragazzi in un unico polo ce ne sono pochissimi in Italia aveva possibilità di fare abbiamo valutato bene la possibilità di ristrutturare questa scuola questa scuola non è ristrutturabile l'impossibile non c'è niente ma c'è andava una barca di soldi che era insostenibile oltretutto non ci sarebbe stata possibilità di avere nessuna forma di contributo perché non avendo un adeguamento sismico quindi la regione e lo Stato se non c'è l'adeguamento sismico non ti danno quindi i principali inizialmente il primo aspetto su cui si è contestato è stato l'aspetto economico dove si è detto che avrebbe generato delle grosse spese dei grossi debiti per tutta la popolazione che si sarebbero protratti protratti per molti molti anni quando è stato dimostrato che comunque non ci sarebbe stato indebitamento ma che le risorse erano state trovate si è dirottato la polemica è stata dirottata sul fatto che bisognava ristrutturare quell'altra e come vi ho detto quell'altra non si poteva ristrutturare o non era comunque conveniente perché strutturalmente quella scuola quasi tutti noi la conosciamo quella scuola è stata fatta male e non è stata fatta per essere una scuola di montagna al di là che non ci sia il tetto ancora ma anche come è dentro ci sono degli atri che non si possono sfruttare ci sono delle aure che in pieno giorno con il sole devono accendere la luce quindi non si è neanche parlato sono iniziati questi lavori quindi la copertura economica è stata garantita sono stati iniziati i lavori della nuova scuola e in un anno è stata costruita è arrivato il covid anche lì dopo un anno che diciamo ha fatto un po' la sua parte nel ritardare alcune pratiche burocratiche in ogni caso siamo arrivati a settembre del 2020 dove abbiamo potuto la scuola era fatta e finita era stato fatto con l'autostatico era posto quindi sapevamo che il tetto non ci cadeva in testa e sono state fatte le lezioni dentro quindi ha preso la responsabilità se l'ha assunta il sindaco abbiamo fatto le elezioni si trattava finito le elezioni di portare dentro i ragazzi io ho sempre sostenuto che la cosa era fattibile ma poi lo dimostrerò anche perché ci sono dei precedenti quindi a fine elezioni quindi a settembre i ragazzi avrebbero dovuto entrare e partiva tutto un cronoprogramma che vedeva interessata la scuola media la scuola attuale media doveva essere ristrutturata con un adeguamento sismico per questo la regione ci aveva dato un contributo speciale dato a tre comuni di tutta la regione di 550 mila euro già arrivati quindi la copertura era fatta inizialmente c'era già un progetto da 300 mila euro per la ristrutturazione delle aule e la costruzione di un nuovo cucino per portarci avanti con i lavori l'anno primo erano già stati rifatti tutti i bagni erano lavori più lunghi quindi con risorse proprie del comune sono stati fatti tutti i bagni per quanto riguarda l'interno della scuola rimanevano da fare sistemare due aule del semi interrato i serramenti e i pavimenti i pavimenti che veniva messo quell'inolio in sostanza era quella poca roba ha avuto questo contributo per fare l'adeguamento sismico il cronoprogramma che io ho illustrato era questo a ottobre è arrivato il contributo entro gennaio nei due o tre mesi si doveva fare l'appalto da gennaio partivano i lavori i lavori duravano tre o quattro mesi al massimo mettine cinque arrivavamo all'estate i lavori della sismica hanno fatto c'era ancora un paio di mesi per fare gli altri pochi lavori dentro a settembre i ragazzi erano i ragazzi delle elementari erano potevano essere trasferiti settembre passato il no aver fatto questo e anche qui non voglio polemizzare ma io sono convinto di quello che dico ha portato tutto a caduta a caduta tutta una serie di incombenze non di poco conto sia logistico che economico perché davvero quindi economico se prima non ci sono stati debiti adesso ci sono economicamente ci è da dire e molto il mancato quindi il mancato trasferimento dei ragazzi dall'elementare alla media che doveva venire quest'anno ha comportato perché la scuola il piano terra era venduto metà era venduto quindi si è dovuto pagare se dovrà pagare una penale da 30.000 euro non si incassano più 150.000 euro della vendita non sapremo se si venderà ancora o no o se verrà sulle spalle del comune perché a queste ore riuscire a vendere un immobile come quello e trovare una soluzione che soddisfa sia il venditore che l'acquirente non è che è un'occasione che ti capita tutti i giorni quindi un piano era venduto l'altro piano era già venduto perché avevamo fatto un partecipato ad un bando regionale per la la realizzazione di un centro di urno per disabili minori noi nel bando avevamo inserito che chi si è giudicato nel bando doveva comprare l'immobile il piano e così è andato quindi sono altri 150.000 euro incassato cosa è successo e questo è l'aspetto l'aspetto economico l'aspetto logistico è che i ragazzi non hanno non hanno la possibilità di fare ginnastica l'edetto fino a poco tempo fa era concesso da chi ha comprato il piano per il centro di urno che non aveva ancora iniziato i lavori avevano gentilmente concesso di poter usare la vecchia palestra adesso i lavori devono iniziare perché sono già avanti hanno dei tempi da rispettare e i lavori devono iniziare quindi non possono più salire al piano sopra a fare ginnastica ho saputo che ci sono anche qui non abbiamo avuto notizie ma ho saputo che ci sono dei problemi logistici per dove fare ginnastica se portarli alla palestra quindi bisogna prendere un pulmino se fagliono fare da qualsiasi altra parte in mezza o in mezza o alle medie e però questo lo deve decidere per la scuola non lo so visitati delle medie e portati alle medie però per dire questa mancanza questa mancanza e dico dicevo prima ci sono stati dei precedenti ma uno nel nostro comune dove in una situazione analoga per non dire tale o quale quindi lì mancava il certificato di agibilità ma si sapeva che la struttura era a posto il sindaco ha fatto un'ordinanza contingibile e urgente ha messo dentro le persone dentro a queste strutture si è assunto lui la responsabilità e dopo 7-8 mesi è arrivata l'agibilità e stiamo parlando di soggetti fragili non sto parlando di ero faccio l'esempio per non andrò parlavamo di RSA quando è stata fatta la RSA i lavori sono stati finiti a dicembre del 99 o gennaio 2000 i lavori sono stati finiti allora come ora la burocrazia faceva la sua parte il sindaco di allora giustamente è in linea con quello che sto dicendo io quindi non dobbiamo inventarci niente facciamo quello che ha fatto il sindaco di vent'anni fa aveva la necessità di portare dentro i degenti che erano sparsi in giro ha fatto un'ordinanza contingibile a un cliente ha preso i degenti li ha messi dentro e lo dice nell'ordinanza in attesa del certificato di agibilità che è arrivato 7 mesi dopo giustificandosi perché erano pazienti fragili perché avevano bisogno di assistenza c'è un'ordinanza c'è un'ordinanza dove dice è necessario occupare temporaneamente i locali in attesa dell'esplettamento delle pratiche burocratiche inerenti della richiesta di agibilità attesa la grave contingente necessità pubblica stante la sommo urgenza di provvedere per sicurare la sistemazione dei citati allora si parlava di anziani in attesa dell'aspiattamento degli addempimenti relativi società di provvedimento edilizio quindi l'agibilità ordine all'asle di occupare temporaneamente i locali allo scopo di alloggiare i degenti e l'agibilità è arrivata 7 mesi dopo si fa la stessa cosa la scuola adducendo la motivazione del covid del fatto che le scuole la motivazione c'erano tutte le motivazioni che volevamo perché intanto la scuola media abbiamo un foglio che ci dice che è idonea sismicamente solo al 20% come tutti gli edifici o quasi tutti gli edifici pubblici tranne la scuola questo edificio tutti lì percè un foglio che ce lo dice che è idoneo sismicamente al 20% avevamo un problema di distanziamento degli ragazzi perché l'anno scorso la scuola media poi con il covid ha fatto lezioni poi online ma i docenti facevano lezioni sul banco di scuole le media andavano prima media sono soprandate quindi dov'era più vero avevamo un edificio dall'altra parte del cortile bastava metterli dentro chi era che veniva a dire che non andava bene è stato usato quell'edificio per fare le elezioni la prefettura aveva dato aveva dato il consenso non c'è un problema io non voglio fare polemiche perché queste cose sono state dette anche in quel verbale di consegna c'era un cronoprogramma che è stato illustrato molto bene non capisco perché non si è avuto e adesso sta portando dietro tutta una serie di incombenze economiche logistiche non è che si vuole andare a puntualizzare però certe cose ma li vede perché altrimenti se c'è solo uno scambio è per questo che noi io vorrei avrei voluto che ci fosse qualcuno a potermi smentire di quello che ho detto vorrei essere smentito ma mi diventa difficile fare un'ordinanza di un esempio tale quale che è successo poi uno non vuole assumersi delle responsabilità non deve fare sì purtroppo il sindaco e lo dico per me e non per altri l'ho sempre detto perché era quasi in quanto è stato io è tra i due e più stupido del paese perché va a cercarsi l'eroglio esci fuori non guardi dove metti i piedi c'è il ghiaccio se non ti rompi una gamba e il sindaco va nelle gambe ma questo è però nessuno te lo può fare e se te lo fa devi prendere il buono e il cattivo quindi questo della scuola a me dispiace molto perché abbiamo perso l'occasione di avere un polo scolastico da 0-14 anni che era unico se voi andate su internet cercate 0-14 anni e trovate pochissimi nell'unica zona e quindi anche in prospettiva del futuro noi siamo in fondo valle quindi questo polo scolastico non è stato fatto e adesso queste conseguenze ce le abbiamo avuto in ultimo ancora nell'ultimo consiglio comunale è stata fatta una reazione di bilancio dove sono andati a prendere i soldi che erano destinati all'estinzione di un prestito flessibile della scuola come ho detto prima era tutto pagato rimanevano 500 mila euro di un prestito flessibile che era stato fatto fin tanto che non si incassavano determinati soldi questo prestito 500 mila euro era coperto con la vendita della scuola di 150 mila euro nel piano terra 150 mila euro nel piano superiore 150 mila euro la strada a rive del Bausano e 50 mila euro un contributo del GSI i soldi cerni nel bilancio di previsioni fatto a marzo a aprile erano stati confermati ma che si sono stati tolti per pagare l'intervento dell'illuminazione che era già finanziato era già finanziato di suo con l'intervento del GSI era già finanziato e veniva pagata in nove anni e le rate venivano compensate con il risparmio energetico e c'era ancora un risparmio di 7-8 mila euro l'anno quindi quando si dice che si lasciavano i debiti per la scuola i debiti erano stati coperti e comunque anche mantenuti dall'amministrazione nel bilancio di previsione ad oggi ad oggi se va avanti questa delibera che si sappia che comunque sulla scuola grava un prestito un mutuo da 500 mila euro è un miliardo e sono 25 mila euro l'anno da pagare si pagano perché se uno fa un mutuo è perché hai la copertura però comunque non è il caso di lasciare alle generazioni future per 30 anni da pagare 500 mila euro sono 25 mila euro all'anno con 175 mila euro di interesse da pagare nell'arco di tutti gli anni se si chiudeva se si estingueva adesso c'era un tasso da pagare del 9% ed erano 45 mila euro quindi 500 restituivi 545 va bene ma io andando avanti non ne pago 45 ne pago 175 mila euro non la pago io adesso ma le pagheranno quelle che vengono loro mentre le risorse ce le avevo perché non dovevo pagare vado a dirottare i soldi in un altro intervento dove c'era già la copertura senza indebitamento quindi sulla scuola ripeto era è andata male e questo ha generato appunto un sacco di spese che non andavano che potevano essere evitate quindi questo mi premeva a dirvelo perché comunque saremo l'unico paese c'è stato qualcuno che ha avuto da ridire che si faceva una scuola nuova ma io parlavo con tanti colleghi ma dicevo ma noi siete gli unici che reclamate perché fate una scuola nuova abbiamo una delle scuole può piacere non essere bianca rossa gialla quadrata rotonda abbiamo una scuola che è fra le più sicure fra le pochissime sicure del canaverso cioè a noi interesse che siano sicuri che i ragazzi che stiano bene siano bene qui abbiamo problemi di freddo l'altro deve dire troppo caldo l'hanno problemi che fa troppo caldo l'hanno problemi che fa troppo caldo e ho chiamato a coda a vice sindaco molto nera e i bambini erano fredde da 15 giorni esatti con 15 giorni dentro la scuola in questa scuola sì che ci sono le infiltrazioni dal tetto non qui ci sono qui le ho viste io qui nelle aule nell'aula sopra i secchielli e il nastro bianco e rosso transennato che non poteva entrare la prima aula sopra l'ho visto io un temporale che è entrato dalle finestre e nella scuola nuova ci sono 5 classi che vengono dalla scuola principale e una classe che esce esternamente e fa tutto il giro anche la scuola in questa scuola quale scuola nuova cioè nelle scuole nuove quelle nuove sì quelle nuove 5 classi e in gioco escono dal bottone quello principale una classe la prima b esce esternamente ma guarda lì c'è un problema però con gelo con freddo con piaccio ovviamente ci si sembra un po' eccessiva e una classe su 6 di uscire fuori cioè di uscire fuori sì si lo faccio esternamente e si è parlato al covid una classe ci trova il covid non penso che si è raccontata giusto a fare questo aspetto ti premeva chiarirlo mi ripeto avrei voluto che ci fosse qualcuno a smentire questo mi piacerebbe poter essere smentito su questo ma quando parlo con documenti alla mano penso che venga comunque c'è un protocollo di sicurezza non credo sia solo una classe però ci sarà un protocollo quello sarà un protocollo scuola ma prima di messe dal riservo però quella scuola è una scuola comunque sicura un'ultima cosa ancora per quanto riguarda la torre l'avevamo annunciato anche la torre di sopra era stato fatto un bando che scadeva a ottobre dell'anno scorso un bando per fare un ristorante avevamo già fatto un progetto esecutivo approvato dalla sovrintendenza un progetto fatto e pagato finito poi è stato fatto un bando pubblico e hanno partecipato in tre o quattro persone uno era seriamente interessato si trattava di affidarlo e ad oggi non è ancora affidato cioè questa aveva intenzione di prenderlo erano tutte spese che affrontava già nel bando era stato stabilito che le spese doveva affrontarle chi se le aggiudicava erano 150.000 euro di spese per fare un ampliamento della struttura per fare una cucina e nell'inverno del covid contavano di fare le opere per poter aprire a primavera e estate qui io so che vedo che ancora si è perdita anche questa non è che cambia l'economia del paese però quella struttura avevano speso un milione di euro per andarci a fare feste due o tre volte all'anno non è insensato se c'era un ristorante un'attività in bagliera lì sopra era un vantaggio per tutti per lo stesso comune anche il comune tra l'altro non perdeva la possibilità di andare perché nel bando era stato scritto che il comune poteva riservarsi di andare quattro o cinque volte all'anno a fare delle manifestazioni quindi poteva andarci oltretutto il comune risparmiava tutta la manutenzione dell'area perché era a carico della giudicataria e non capisco perché a distanza di un anno ancora lì e non ci vediamo un certo minuto queste erano le cose le cose un po' principali da dire sarebbero ancora altre ma non vi vogliamo tediare ancora con altre con altre che potrebbero essere scambiate un po' per scaramucce maggioranza minoranza ma credete che non è questo l'intento assolutamente però queste sono cose che hanno un peso nell'amministrazione che è rilevante e non va trascurato grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti